Dimissioni dell'assessore Stefania Vecchio, presunte voci volevano in giunta esponente del PD. Arriva la smentita con il commissario cittadino Lucas Groi e capogruppo Egidio Mirra. Smentiamo la notizia nel modo più categorico. Il PD di Battipaglia, coerente con la propria storia politica e col risultato elettorale del 2016, ha sempre svolto un ruolo di opposizione, ponendo gli interessi della città e del territorio che rappresenta come faro della sua azione politica. Pertanto, proseguono, ogni eventuale aspirazione o ambizione di singoli iscritti in tal senso avrebbe carattere esclusivamente personale e non solo non incontrerebbe il sostegno, ma addirittura si porrebbe in niente a contraposizione alla linea del partito, essendo una mera operazione trasformistica di palazzo, volta a nascondere la grave crisi politica in cui versa da sempre la giunta francese. Vincenzo Inverso, leader per il nuovo inizio, scrive sulla crisi amministrativa. Con le dimissioni dell'assessore Stefania Vecchio, crolla l'ultima argine di credibilità di questa amministrazione.